Nel mondo Carrara è sinonimo di marmo e marmo nel mondo è sinonimo di scultura, architettura, arte e bellezza. Qui Messer Michelangelo agli inizi del Cinquecento venne e soggiornò per lunghi mesi alla ricerca dei marmi per le sue opere più importanti. I campus di scultura Michelangelo saranno un viaggio che partendo dalla storia della nostra città e di queste magnifiche montagne attraverserà l'arte classica e contemporanea. A questa storia e tradizione Isaac si propone di avvicinare tutti gli studenti del mondo in un percorso di studi e di vita che li avvia all'apprendimento dell'antica arte della scultura. Tra queste cave eterne, inondate di luce e di fatica di uomini, si incontrano la tradizione e il futuro di una città che da secoli ha fatto del marmo ragione di vita e conoscenza. Da sempre, affermati artisti di tutto il mondo vengono a Carrara ad apprendere i segreti della scultura. Con questo progetto, Isaac offre ai giovani studenti questa straordinaria possibilità. Ogni campus prevede una durata di 14 giorni. Le lezioni, per un totale di 76 ore di scultura e di plastica, si svolgeranno negli spaziosi studi dell'Accademia di Belle Arti e dell'Istituto Professionale del Marmo Pietro Tacca. I lavoratori sono attrezzati con tutto il materiale necessario alle lezioni. I professori insegneranno le varie tecniche e strumenti della scultura e della modellazione plastica. Ogni studente avrà a disposizione la propria postazione e un blocco di marmo con cui realizzare la propria scultura. Ai corsi di scultura si affiancheranno visite guidate negli scenari delle cave. Se ne potranno ammirare diverse tipologie, a cielo aperto e sotterranee. Particolare attenzione sarà dedicata alle moderne tecniche di estrazione e alle varie qualità di marmo presenti. Gli studenti saranno ospitati all'Hotel Michelangelo, dove arte e design si incontrano in ogni stanza appositamente disegnata nella sua unicità da artisti contemporanei. Ogni camera è dotata di collegamento wifi, frigo bar e televisore HD. Si faranno escursioni nelle vicine città di Pisa, Lucca e Firenze, dove si potranno vedere esemplari opere di sculture e architettura realizzate in marmo di Carrara. I campus Michelangelo si propongono come esperienza unica di studio e di vita. Imparerete un'arte che potrebbe diventare una professione. Con questa straordinaria esperienza porterete a casa un importante arricchimento personale e professionale. di un'interno a casa qui deve essere così fortemente ad dessin. Per un'interno a casa che deve essere così fortale. L'interno a casa che deve essere così fortale. Per un'interno a casa di un attrazione. Ciò che deve essere��ata e fissuto ma anche per una prima parte. Grazie a tutti